Lancio per Kragl, grande combinazione con Perez, ancora Kragl, Marino, Marino, Messina in vantaggio al minuto 27, parte Kragl, Trasciani, raddoppio del Messina al minuto 24 della ripresa, la punizione precisa di Kragl per la testa di Trasciani e al Francioni, è la tida a zero, Messina a due. Grazie